Non è un po' di niente, 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 non è un po' di niente. Juega è una ragazza di 13 anni e ha spiegato che è stata cambiata di un marito che è vecchio, che aveva due donne, Juega e la terza, e ha scappato qui perché non voleva esposarsi con questo vecchio. La sua mamma è venuta a prenderla, l'ha spicchiato e hanno portato la ragazza al villaggio con il suo marito. La ragazza ha fatto due mesi ma un giorno ha scappato, è venuta qui e dopo due mesi rimane qui con noi per imparare la costura, la cucina, la maglietta, l'igiene.